Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, curiosità che non sapete sulla forma completa. Tutti sappiamo che la forma completa è a livelli. C'è la prima, la seconda, la terza, la quarta e a quanto ho capito anche la quinta. Vabbè, comunque, voi direte, Max, sì, questo lo sappiamo, ma la storia che hai raccontato un anno fa degli oggetti è vera? Ma un po' sì e un po' no, perché gli oggetti esistono uno e dall'altra parte no, perché non sono quattro, sono solo due. La forma completa a livelli, che è sulla Terra, è la forma completa ad anelli strani, come questo. Questo qua non è nello strano. Questa forma si trova nell'altro universo, nel buco nero, la Terra tutta rossa, chiamiamola, anzi l'universo rosso. Quindi ragazzi, questo qua. Quindi diciamo che sì, sono due. L'anello e la forma completa a livelli. Ciao!